E amici che siete qui, intanto grazie a tutti della presenza. Aguzzi, allora, a un mese dalla sua presentazione, un primo giro di consultazioni, che frutti ha dato? Sto creando una lista civica che va al di là dell'appartenenza politica, al suo interno ci sono giovani e persone che appartengono a diverse entità politiche, ma molti che non ne fanno proprio parte, nel senso che non appartengono a partiti. Sul contatto nel territorio, cosa è venuto fuori? Quali sono i temi emergenti? Ma stanno emergendo con forza i temi legati alla salute e quindi alla sanità, rafforzando anche la presenza sul territorio di un distretto sanitario. Il problema della scuola di Saltara che è stata chiusa causa in noi terremoto e che oggi è ospitata all'interno della delegazione comunale. Non va bene, occorre assolutamente ripristinare la situazione precedente e poi pensare a quale sviluppo le scuole dovranno avere in questo territorio in futuro. Ma emergono temi anche più semplici, dal decoro stesso delle frazioni, i collegamenti con le frazioni più lontane. Una cosa molto sentita, ma mi piace questo dire che era una delle nostre idee, è anche la creazione in questo territorio di un luogo di incontro. Guardandosi a destra e a sinistra non si vede niente? Non sta a me scegliere i miei avversari. Chiunque sarà candidato in qualsiasi altra lista, io auspico semplicemente che tra noi sia un confronto sereno dove i cittadini possano capire, possano recepire e possano essere liberi di scegliere con serenità. Grazie.